Fellina in una delle tante volte, questo doveva essere il 75-76, aveva deciso di andare a Torino e una certa mattina, mi ricordo di un venerdì, doveva partire per Torino presto per passare tutto il venerdì e tutto il sabato con Roll e eventualmente tutta la domenica. Lui abitava a via Margutta 110, la mattina esce con la sua borsa, col suo trench, perché il taxi lo sta aspettando, saluta Giulietta Masina, apre e chiude la porta e sul pianerotto lo trova Roll. E lui rimane sbalordito e dice, ma Gustavo, come mai qui? Sto venendo io a Torino da te. E Roll gli dice, ti ho precorso. Ma come mi hai precorso? Va bene. Fellini dice, va bene, è una delle tante super-espedienze che fa Roll. Scendono insieme le scale, i due piani, arrivano giù, entrano tutti e due nel taxi che aspettava per andare all'aeroporto, uno entra da destra, uno entra da sinistra, Fellini si accomoda sulla destra, poniamo sul retro della macchina, e Roll sulla destra scompare, non c'è più.